La prima commissione di controllo e garanzia è nuovamente al sopralluogo del PeopleMovie, i lavori stanno finendo, c'è la previsione che all'inizio del prossimo anno entrerà in funzione, verificheremo se il programma elaborato dal Comune è conforme a quanto poi realizzato dal PeopleMovie e dalla società ad essa legata. Dalle prime impressioni certamente è una struttura che darà un'immagine nuova e sicuramente positiva della città.